www.feyyaz.com Mi hai aprisciare tutte le gomme da sera! Questa mia gomme là! Se trovi che stai con me, stai con me! Ma sei da qui insomma, sei sezzenta! Ho sempre la testa in cima a Spanio! Allora è vero che questa mia tampetta, perché la testa è un tremendo vero evitatore! Allora c'è il dottore? Eh, provo a guardarci anche! Mi servisce il telefono? Carta il telefono, dai! Carta il telefono! Prima però bisogna misurare la preva! La preva? Si, la preva! Bisogna misurarla! Eh, 2000 metà! 2000 metà! Ancora cosa? Il termometro! Che mi ha morto con la nasia eh! Trova con la nasia! Tocca! Metti in bocca eh! Ragazzi, ragazzi! Metti in bocca il telefono della zia, dai! Ecco la zia, d'amor! Si, quella della zia che... Come che... Eh, la... Ma lì la s'ha preparata... Se è partita su... Metti la macchina su... Metti la macchina in bocca! No! Ascolta poco! Metti il super l'azienda! Ma con cazzo di noia! No, no! Metti la macchina! No! Senti il dottore se... Sì! 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 Dottore! Guarda il vescichino del bagaglio in cima da lei ma sono mie scusate! Eh! L'ho mangiata con gorsola! Ma che cosa? Eh! 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 Sì! Dottore! Dottore! Ma cosa può essere? Un riscaldo? No! No! Non è che non piace mia! Un riscaldo! Senti! La soppa c'è! Però un riscaldo! Un riscaldo! Sì! Sì! Dottore! Dottore! Scusi! Eh! Sì! Come? La ditta che si andè! Ah! Beh! Ieri! Ben soli! E io bimì! Due grappe! Ma cosa ti... Ma cosa ti... Ma che osteria! La ditta ti andè cosa per il tuo pagare, il tuo bisogno? Ah! Fia! Che bello! E che si andè? Ma ciò da sei volte che sono diventato bisognoso! Quanto ti toco? Dottore! Sei volte! Sei volte! Sei volte! Dicali! Un bisognoso! La ditta che volesse avviare con un limone! Un limone! Si, si! Dottore! Dottore! Hai passato mio un limone! Dottore! Mi spieghi! Lei non può venire! Qualcosa dovrò fare, dottore! Eh! Dive! Calvina! Ma che te l'atti! Lei calvina quando hai a te! Adesso! E con la propria mamma! Eh si! Le cullè! Le cullè! Le cullè! Quelle cullè! Quelle cullè! Quelle cullè! Quelle cullè! Quelle cullè! Anche la propria mamma! Si! Ma la propria mamma! Si! Ma la propria mamma! La seguita dirà! Signora! Si riguardi! Signora! Si riguardi! Si riguardi! E le impugnate! La seguita! Guardate! E dopo è morta! E per me è tanta fiducia con Dottore! No Dottore! E tanto che lei non c'è! Che cosa possiamo... Si! Cantata! Presta! Voi c'è l'espressione! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo che lei mi spiega! Si! Ho capito! Ha chiesto di guardare la pressione! Ha chiesto di guardare la pressione! Ha chiesto di guardare la pressione! Tutto a posto! Guarda! Quelle da tre! Due! Quelle davanti! Voi sei! Quindi il meccanico delle proprie! Aspetta! Dice se senti dolore! Senti dolore? No! No! Un po' allo sterco! Ma che sterco! E cosa? Il cuore? Va bene il cuore? Si! Il batto! Va bene! Va bene! Va bene! Il batto! Si! La domanda è la tua ragù! Se cosa? Se soffio! Se respiro bene! Se respiro bene! Se respiro bene! Respiro bene! Davanti e dal tre! Si! Che quando fai la vasca a fai il drenno! Ha perduto l'idromassaggio! E la rubro! Si! Sì! Ma va bene! Ma va bene! Esco, beh! Da dì! Se viene al cazzo! Non tu che fa la tacca! Beh, che puoi fare? Ma no! È un mestiere! Sì dottore! Tanto che lei arriva io cosa devo fare? Eh! Ascolta! E... Dove che hai la borsa? La borsa! Oh! Ma no! La borsa te la fa calda! ma è l'andratore quel cantina si dottore va bene facciamo così dottore d'accordo dottore ascolti le devo qualcosa per la consulenza si ah 50 euro cosa? 50 euro per dottore l'ora dà la ricetta per telefono e me il pack per telefono 50 euro che stai in vita che viette già sono e due altre sono peri d'accordo bravo 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 Grazie a tutti.